Ritorno in classe nella provincia di Isernia, i comuni del capologo Pentro che avevano optato per la DAD secondo le decisioni dei singoli sindaci erano stati Bagnoli, Capracotta, Carpinone e Santa Gapito che comprende anche gli studenti di Longano. Stamattina dunque sono rientrati in aula i piccoli scolari di Capracotta e Carpinone. Il sindaco di Bagnoli Giancarlo Ianiero ha invece deciso di rimandare la riapertura al 24 gennaio. In queste ore il primo cittadino di Longano, Cristian Sellecchia, e quello di Santa Gapito, Giuseppe Di Pilla, stanno valutando di ripristinare le attività didattiche in presenza già a partire da mercoledì prossimo. La scelta di riaprire le scuole di infanzia e primaria è stata a cauta per il sindaco di Carpinone Pasquale Colitti che ha operato nel segno della prudenza. Dopo le festività natalizie, il capodanno e appena trascorsa l'epifania abbiamo ritenuto, visto anche il numero dei contagi che comunque era in salita ed era per la nostra comunità un numero comunque importante, abbiamo ritenuto muoverci sul filone della prudenza e non chiudere la scuola, attenzione, sospendere le attività in presenza che è cosa ben diversa. Oggi invece, e per fortuna, il numero dei contagi nella nostra comunità è meno preoccupante, proprio questo fine settimana abbiamo avuto almeno sei guarigioni, questa mattina mi è stata comunicata la settima, è ovvio che i numeri sono in discesa e questo consente, sempre però con la massima cautela, consente appunto la ripartenza in una parvenza di normalità. Una decisione però giusta dal punto di vista pedagogico come ha sottolineato la referente del plesso scolastico della primaria, Maria Luisa Tartagione, che ha ribadito quanto i bambini abbiano bisogno del proprio posto nella dimensione sociale. I bambini hanno bisogno di stare con gli altri, il fatto di stare chiusi è stato brutto per tutti, la didattica a distanza è un servizio necessario quando ce n'è bisogno, però in questo caso adesso che possiamo ritornare in presenza è molto molto meglio. I bambini hanno bisogno di stare veramente insieme agli altri perché la cosa più importante per i bambini piccoli è la socialità, loro non possono stare, i bambini non possono vivere da soli.